Nonostante l'assenza di carri allegorici, la domenica 11 febbraio di Carnevale a Nicosia ha comunque regalato un'atmosfera di festa. L'evento è stato organizzato dalla Soggezione da Cosa Nascicosa e presieduta da Loredana Nisi, con il supporto dell'amministrazione comunale, in particolare dell'assessore Nando Zappia. Le maschere di gruppi si sono radunati in serata presso la rotonda di fronte all'ex tribunale ed hanno spilato lungo la via 4 Novembre, sino al piazzale Martiri di Nassiria, dove, accolti dagli applausi dei presenti, mentre percorrevano un tragitto delimitato da corde, camminando su un tappeto rosso, sono stati presentati da Antonio Vanadia, accompagnati dalla musica del DJ Mirko Di Marco. Quattro maschere singole ed alcuni gruppi mascherati hanno reso omaggio alla tradizione e creatività, con l'intento di mantenere viva l'essenza della festa. Ad aprire la sfilata, la maschera singola della bionda in bicicletta, accompagnata da un fedele cagnolone di peluche sul sellino. A seguire il povero petroliere, poi una graziosa ballerina di Can Can, una coppia raffigurante al sindaco Bonelli e l'assessore di Costa, che ha dato vita alla maschera a spasso per Nicosia, suscitando sorrisi lungo il percorso e coinvolgendo in balli gli originali sindaco ed assessore. Le scolaresche hanno dato il proprio contributo con il gruppo Noi Faraoni Regine d'Egitto, con gli allievi della terza e quarta C del Plesso Carmine, che si sono anche esibiti con un ballo, mentre un secondo gruppo mascherato ha proposto un ecologico ed affascinante tema con le api custodi dei tesori. Gli aspiranti sceicchi hanno sfilato con eleganza, con i loro cammelli di peluche, distribuendo sorrisi e banconote al pubblico. Infine, il quarto gruppo, gli Antago Disney, ha presentato con orgoglio i cattivi più famosi dei cartoni Disney, incantando grandi e piccini. Dopo la sfilata si sono esibiti degli artisti giocoglieri provenienti da Milazzo, il duo Taverna Medievalis. Già erano stati presenti anni così, è un'occasione del corteo storico, che ha celebrato il 488esimo anniversario dalla visita di Carlo V. La serata si è conclusa tra balli e coriandoli. La premiazione dei migliori costumi singoli e di gruppo avverrà martedì 14 sera sul palco allestito in Piazza Garibaldi. Anche per la serata conclusiva si invita la cittadinanza a partecipare, indossando qualcosa di simpatico e creativo per richiamare il carnevale.